Ciao a tutti, da Federico da Roma, nuovo unboxing di questo canale dedicato al diffusore Indiana Line TESI 742. Diffusore per utilizzo home theater, il 742, di cui vedete l'imballo originale, è stato utilizzato come canale centrale nella mia sala cinema, in accoppiata al sinto amplificatore Yamaha RXV 2006 e ai canali frontali Indiana Line TESI 262, già oggetto di precedenti unboxing. Lascio in descrizione i link ai video. Come indicavo in quegli unboxing, questo è il secondo video di una serie di quattro in cui presenterò tutti i modelli Indiana Line che ho utilizzato come diffusori home theater nella mia sala cinema domestica. A fianco dell'imballo del 742LB, questo è il nome del modello completo, vedete un secondo diffusore, sempre Indiana Line e sempre della linea TESI. Perché vi starete chiedendo due diffusori centrali? Perché li ho utilizzati entrambi nel mio impianto home theater 6.1. Il 6 sta proprio nell'utilizzo di un canale centrale aggiuntivo posto al centro dei diffusori surround, oggetto del prossimo unboxing. Ricordo a tutti che questa rubrica, che ho intitolato Old Boxing, ha l'obiettivo di effettuare l'unboxing di prodotti usati o fuori produzione, a beneficio di chi li stia cercando nel mondo dell'usato. Il diffusore TESI 742LB, scopriremo, è un diffusore laccato bianco, da qui la sigla LB, mentre quello nero che vedete vicino si distingue dal precedente solo per il suffisso LN, oltre che per il differente colore, ovviamente. Prima di effettuare l'unboxing del TESI 742, solo una breve considerazione, del tutto personale e quindi esposta a qualsiasi critica costruttiva. Nel video di unboxing del Sinto Amplificatore Yamaha RXV 2006, mi sono soffermato sull'importanza, ove possibile, di disporre di un impianto separato per l'home theater rispetto all'impianto per l'ascolto a due canali. Le motivazioni, convinzioni personali, le fornivo in quello stesso video. Vi lascio anche il link in alto a destra e in fondo a questo video se siete curiosi di scoprirle. Qui mi preme solo aggiungere che, dopo qualche anno di esperienza nella composizione e nell'utilizzo di un impianto home theater, prediligo la filosofia di dotarsi di diffusori non solo dedicati dal costruttore a questo scopo, ma anche tutti della stessa linea. Questo per privilegiare la coerenza timbrica dell'intero impianto. Quello che racconterò per il diffusore Indiana Line Tesi 742LB, contenuto nella scatola, vale naturalmente anche per il diffusore gemello. Il differente colore è stata solo una scelta di arredamento, con la parte frontale più visibile laccata bianca e quella posteriore più nascosta di colore nero, richiamando il colore del divano in pelle in cui mi siedo. In questo video non mi soffermerò su approfondimenti riguardo Indiana Line. Se siete curiosi lascio il link in alto a destra dell'unboxing delle Tesi 262 in cui fornivo un breve cenno storico su questa ditta. Il diffusore Tesi 742LB fa parte della serie mediana della Indiana Line. Si pone pertanto tra le entry level nota e le top di gamma diva. coerentemente con il progetto Tesi siamo di fronte ad un diffusore certamente economico, ma comunque di ottima fattura. Come per le 262, il centrale 742 è un bassa reflex a due vie, che utilizza però due midwoofer da 12 cm, con coni di polipropilene rinforzato con mica, dotati di rifasatore centrale, per migliorare risposta e dispersione delle medie frequenze. Il tweeter è a cupola e in seta trattata molto leggera, con camera di risonanza posteriore. La casa madre suggerisce amplificazioni tra 30 e 100 Watt di potenza, considerata la buona efficienza di 92 dB. Il diffusore misura 35 cm di larghezza, 13,5 di altezza e 24 di profondità. Il cabinet in MDF suona sufficientemente sordo al test della nocca. Al peso misura circa 5 kg. L'impedenza di carico gestita è fra 4 e 8 Ohm per un range di frequenza che varia da 55 Hz a 22 kHz. Nella confezione originale rappresenta in dotazione un tampone di spugna da posizionare a chiusura del condotto bass reflex, nel caso in cui il diffusore fosse posto in uno spazio angusto. Il retro presenta la stessa vaschetta in plastica delle tesi 262, con buoni connettori che accettano cavo spellato, banane e forcelle. Il crossover è direttamente collegato al retro di questa vaschetta ed ha una frequenza di taglio a 2600 Hz. Nel video relativo alle 262 avevo indicato come questi diffusori non mi avessero particolarmente emozionato alla prova a due canali. Motivo per cui ho deciso di cederle sul mercato dell'usato, ripensando tutto l'impianto home theater. Discorso a parte, dicevo in quel video, per questo canale centrale. Apparentemente piccolo per sonorizzare bene uno spazio di medie dimensioni, parliamo di una zona living di circa 20 metri quadri. In realtà questo gioiellino mi ha particolarmente colpito per la naturalezza e per la precisione nella restituzione delle voci, che sono sempre rappresentate ben presenti e ben collocate nello spazio. Come potete vedere nel video, io ho posizionato il 742 su delle punte, per meglio isolarlo dal mobile ed asciugare un poco il timbro caldo che caratterizza queste serie e che per il canale centrale, ben dosato con questa soluzione a basso costo, diventa un valore aggiunto più che un difetto, anche quando si va dalla ricerca di una maggiore trasparenza come nel mio caso. Giudizio ottimo quindi per questo tesi 742 rispetto ai frontali 262. Credo di aver detto tutto, se siete arrivati fino a qui vi chiedo la cortesia di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per le notifiche dei nuovi video. Se avete domande o curiosità lasciateli pure nei commenti. Grazie a tutti e ciao da Federico da Roma.